Signori, bentornati nel canale del vostro Ottone Nazionale. Qualche giorno fa, allo scopo di portare un gameplay per la Lachman 556, che vi ricordo, durante i buff e nerf avvenuti durante la patch del 23 ottobre, è risultato un'arma potenzialmente in meta. Non sono riuscito a portarvi la build, però sinceramente è uscito un game pazzesco nella modalità classificata, dove pur avendo sbagliato gran parte delle rotazioni e dei fight, comunque siamo riusciti a portarci un bel risultato a casa. Goditi il game perché ne vedrai delle belle e magari ti strapperò anche qualche risata. Buona visione. Siete pronti? Andiamo a vincere, raga. Qui c'ho, belli salvaggio, una trentina di kill e ce ne usciamo, dai. Dai dietro. Indica un punto di lancio per la squadra. Il tuo compagno è finito nel Gulag. Io tutti non li sono forti. Questo sarà il nadello l'out, raga. Io direi di andare per i baloni. Carrello, pilli, te lo fai. Un'altra terra. Ragazzi, dobbiamo pushare. Vai, vai. Ma io non li vedo, dove? Qua, raga, da me. Sopra, sopra. Bravissimi, ragazzi. Ragazzi, un altro team, raga. Andate via, andate via. Lì, lì. Lo sono sotto. Lo sono fatto per miracolo. No, l'hai visto? Ma che mi sono fatto per miracolo? Dove, dove, dove? Da me? Bravo. Quelli che ci hanno pushato lì, fra. Che prese? Lancio di equipaggiamento per voi. Nemico in arrivo nell'area. Terra 1. Abbiamo a sinistro. Terra 1. Terra 1. Dai. A Roma è più. Bravo, tira io. Vai, vai. Aurelio, anticipali tutti. Venite, venite. Ragazzi, venite. C'è passaggio sotterraneo. Vinciamo. Ok, tutto a salire. Dove c'è Franci. L'abbiamo sotto. Dai, la maschera. Sì. Vieni dall'esterno. Mezza le piante, Auri. No, raga. Mi ha investito la macchina, non ci credo. Io veramente. Maria, il panico. Maria. Raga, ve l'ho fingato, raga. Bravi. Ma da me, da me, da me. Tefer, mori. Ragazzi, tre team. Ce n'è un altro. Ma raga, è partita di merda, raga. Da me, da me, da me. Bravori. Let's go. Che partita allucinante, oh. 22 kill, ma picciotti assurdo. Il game assurdo. Picciotti, questo è da YouTube, per forza, per forza. Esatto, senza parlare. Abbiamo giocato di merda. E abbiamo vinto. E questo è il trucco. Signori, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Spero di avervi strappato una risata. Per questo video è tutto. Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale e lasciare un like per supportarmi. e ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Magari con la build dell'Achivan. Ciao ragazzi.